Questa mattina all'Aurum di Pescara si è celebrata un'amicizia speciale che lega il capoluogo adriatico alla città cinese di Fuzhou. Una delegazione di rappresentanti istituzionali e artisti è arrivata dal maggiore centro della provincia del Fujuan, con cui il comune di Pescara ha stretto relazioni di collaborazione un anno fa. All'Aurum di Pescara dunque si è celebrato il Fuzhou Day, un vero e proprio scambio culturale per consolidare l'amicizia fra le due città nato con l'intento di sviluppare comuni interessi economici e commerciali nell'ambito del progetto Football Town Program ideato dalla Proger in collaborazione con il Centro Estero delle Camere di Commercio di Abruzzo, la Pescara Calcio e altre realtà imprenditoriali importanti della nostra regione. Sì, è un importante incontro che vede tutta l'Abruzzo, la città di Pescara, ma tutto l'Abruzzo, oggi insieme a questi dieci imprenditori che provengono da un'importante provincia cinese e oggi ci sarà un interessante workshop dove si cercherà di mettere insieme e di testare dei rapporti commerciali. Parliamo comunque di una delle principali città economiche cinesi dove le importanti aziende di questa regione stanno investendo milioni di euro e quindi grazie a questo investimento che viene fatto dai nostri partner, oggi Camera di Commercio, Comune di Pescara, insomma tutti gli attori istituzionali e regionali possono in qualche modo mettere in relazione quelle che sono le esigenze delle imprese abruzzesi con questo importante mercato. Grazie a tutti.